Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, sblocchiamo in questo momento il colore viola di ibrido, la penultima fase che ci permette quindi di ottenere l'ultima colorazione del drago. Come per quanto riguarda il nostro cuore nero, arrivato oramai anche lui alla penultima fase, quindi con le fiamme di colore giallo, anche ragazzi ibrido arriva con l'ultima colorazione. Andiamo a vederlo assieme più da vicino e guardate ragazzi, che figata! Viola è molto bello! Viola è tanta tanta roba ragazzi, anche perché molto più bello di grigio indiscutibilmente del rossino che ha, fatemi un attimo rivedere gli stili al volo di ibrido, modifica stile esatto di questo rossino qua, non mi piace, verde è carino ma viola è veramente tanta tanta roba. Quindi ragazzi, volevo farvelo vedere insieme, spero che questo video vi sia piaciuto e adesso ROD, tu ultima fase di ibrido e ultima fase di cuore nero. Noi ci vediamo presto, ciao! Ciao!